La mia esperanza E mia salvetta Mia roccia di difesa Non potrò vacillare Solo in Dio Riposa l'anima mia Cari amici del Dio Maria, benvenuti a questa nostra serie di catechesi Che hanno come scopo di far conoscere a Meggiugorie Tutto con la platea immensa di persone che ne hanno sentito parlare Ma che non conoscono il messaggio fondamentale di Meggiugorie Che è fondamentale per il prossimo futuro Sia per il mondo sia per la Chiesa Quindi mi permetto di dire che sarebbe veramente irresponsabile da parte nostra Non spendere tutte le energie che sono possibili Per preparare la Chiesa e l'umanità Al tempo della grande prova che comunque è già iniziato Perché come sapete La Madonna ha preannunciato Ha detto, profetizzato Che sarebbero arrivate le prove Quattro o cinque mesi prima Da quando è cominciato la pandemia Quindi lei l'ha preannunciato a luglio La pandemia è arrivata a dicembre E chiaramente la Madonna faceva Diciamo così allusione a questo tempo Che sono inaspettate Provi inaspettate Come d'altra parte Sano inaspettati Al di là di ogni immaginazione I segreti Con i quali e attraverso i quali La Madonna operera la sua vittoria Questo dunque è l'obiettivo del nostro libro Che ha preso come titolo Una frase di San Giovanni Paolo II E cioè Međugorje E la speranza del mondo Noi abbiamo visto Nella puntata precedente Cari amici La scelta dei sei veggenti Non è la prima volta Che la Madonna sceglie più di una persona Pensate a parecchio di Morenna Sette cinque ragazzi Quindi questa volta sei Quattro ragazzi Due ragazzi Però era mai successo Che i veggenti avessero una Una diciamo Un peso così Una missione così ampia E così impegnatina nel tempo Ormai sono passati 40 anni In cui sono ingaggiati E secondo quanto ha detto la Madonna Saranno ingaggiati per tutta la loro vita In questo servizio Dei suoi confronti Dei suoi piani Quindi Poi Come già ho spiegato Oggi Siamo in una società massmediatica Una società dove Si sa tutto di tutti Attraverso i vari strumenti di controllo Per cui Diciamo Anche a livello Diciamo Della Della comunicazione Loro San benissimo Che ogni loro parola Farà il giro del mondo Questa è la verità Però hanno affrontato Tutto questo tempo Con Da una parte L'ingenuità dei ragazzi Dall'altra però anche Con la sincerità E con la fortezza d'animo Che vengono dalla fede Allora La novità di Međugorje Rispetto alle altre apparizioni Dipende dal fatto Che la Madonna Dopo aver scelto i sei veggenti Ha scelto anche la parrocchia Questo è un aspetto Che non viene messo Sufficientemente In luce Ma che è importantissimo Anzi Questo Distingue Le apparizioni di Međugorje Da tutte le altre Era mai successo Che la Madonna Scegliesse una parrocchia Sì Era successo Per esempio Boatman Che apparisse Una parrocchia intera Alla quale Ha promesso Che i soldati Sarebbero tornati a casa Dopo l'inviaggiamento Della Prussia Ma era stato Il fatto di una giornata No Poi invece La Madonna Ha scelto una parrocchia intera Con messaggi Ben precisi Addirittura Con espressioni bibliche Molto impegnative Dicendo Che siete un popolo eletto Cioè scelto Per una missione speciale La Madonna Senza toccare Ovviamente Le gerarchie Della parrocchia Che ha un parrocco Che è una comunità religiosa In quel caso I francescani I vescovi Quindi non ha toccato Assolutamente La gerarchia Della chiesa Ma come madre Della chiesa La parrocchia Lei ha voluto Essere in qualche modo La guida Della parrocchia La guida Della messa Della parrocchia E ha voluto Che tutti i parrocchiani Fossero suoi La scelta Della parrocchia Ovviamente Dà All'apparizione Di Međugorje Un carattere Graziale Evidente E importantissimo Anche a me Adesso Anche in questi giorni Poi anche in passato Sono sempre arrivate Critiche Perché Da parte di persone Che dicono Guarda solo Međugorje Non guarda Anche alle atta Apparizioni Insomma E Effettivamente No Non è proprio così Perché L'apparizione Approvata Della chiesa O comunque Studiata Della chiesa Me ne sono sempre Occupato Un esempio Chiaro Mi sono sempre Occupato Fin dall'inizio Della apparizione Di Kibieho Perché nel medesimo Tempo Mi Mi interessassi Di quelli Di Međugorje No Però Il motivo Per cui Non Non prendo Neanche in considerazione Alte apparizioni Ma Mi arrivano Tutti i giorni Lei cosa pensa Di apparizioni Qua Apparizioni Là Apparizioni Anche passate Come Svoldo Garabandal Alvin Continuamente Riproposto Io rispondo A tutti In il medesimo Modo Cioè In poche parole Io Di apparizioni Di cui la chiesa Non si occupa Ma Me ne occupo Neanche io Vorrei sapere Per qual motivo Devo occuparmi Di apparizioni Di cui la chiesa Non si occupa Non si occupa Quindi Non mi interessa Non mi interessa Neanche ne prendo in considerazione Perché c'è il fatto Che la chiesa Se ne occupi È un fatto Di rimette A mio parere Perché Se no Si rischia Di Di navigare In un mare Pieno di scogli E di supposte Apparizioni Invece C'era Madonna Apparendo A Meciugorie Ha Fin dall'inizio Mobilitato La parrocchia Già La manovra Che ha fatto Perché Ha pensato A lei Questa Di spostare L'apparizione Della montagna Alla chiesa Indica La sua preferenza Ecclesiale Cioè La scelta Della parrocchia Dei due campanili Quindi Diciamo Lei stessa Ha spostato Le apparizioni Dalla montagna Dalle prime apparizioni Poi Ovviamente Siccome la polizia Presideva la montagna I ragazzi Si nascondevano Nel piano Ma anche lì La polizia Li inseguiva Alla fine Sono scappati in chiesa Dove c'era Il buon padrioso Che Al quale la Madonna Ha detto Attenzione Che protegge i ragazzi Che stanno scappando E di lì Che il padrioso Si è cambiato Insomma Ha preso Una decisa posizione In favore Delle apparizioni Ma da quel momento Poi l'apparizione Non è sempre Avvenuti in chiesa O nella canonica Vicina E comunque Poi successivamente Negli ultimi tempi Negli ultimi anni E sono state spostate Nella A casa stessa Nella casa dei Veggenti Oppure sulle colline Cioè Però Diciamo Sono stati decine di anni In cui le apparizioni Sono avvenute Nella sacristia O sul coro Della parrocchia O nella casa parrocchiale Quindi Al di là di questo Al di là del fatto Dove avvengono Le apparizioni E E il fatto Che la Madonna Ha scelto una parrocchia E l'ha scelto Con messaggi Ben precisi Bellissimi Che adesso Non vi sto A citare Perché Ci ha fatto Altri libri Altri studi Su questi argomenti E La Madonna Dopo due o tre anni Ha scelto la parrocchia E ha detto Di fatto Che l'avrebbe diretta a lei E lo ha fatto Dando Dando messaggi Ordinari E Dando messaggi ordinari Prima tutte le settimane Tutti i giovedì La Veggente Maria Doveva chiedere alla Madonna Vi dare il messaggio Anche questo è un piccolo particolare Cioè Sono i vecenti Che chiedono alla Madonna I messaggi Parlo Di Maria Non di altri Non di messaggi a Miriana O A Jaco O a Ivan Parlo di Maria Per quanto riguarda I 25 del mese Il giovedì Allora È 25 del mese Adesso È Maria Che deve chiedere i messaggi Di fatto mi ricordo Che un giovedì I primi tempi La Madonna Non aveva dato il messaggio Semplicemente Perché Maria Non si era dimenticato Di chiederlo Insomma Quindi Questo è un piccolo particolare E molto interessante Perché sta a indicare Diciamo così Da parte nostra Che chiediamo i messaggi Già in sé per sé Il fatto di chiedere il messaggio Sta a indicare Che noi accogliamo la Madonna Come madre maestra Della nostra vita Ma poi È la Madonna stessa Che ha organizzato Una vita parrocchiale In un modo Direi Nel modo che a lei piaceva Le due parole povere Cioè Organizzata sulla preghiera Cioè la messa quotidiana Preceduta da due rosari Poi al termine Poi al termine della mese quotidiana Il terzo rosario La benedizione degli oggetti La benedizione dei malati Il terzo rosario L'adorazione eucaristica A credo tre volte alla settimana Una volta alla settimana Il venerdì E alle tre si va Diciamo Sul Sul Cricevaz Poi Insomma Diciamo che facendo il bilancio La parrocchia Cioè a livello proprio di Preghieri Preghieri La comunità cristiana Quindi a parte quelle personali E la Madonna Chiedeva Quattro ore di preghiera Perché comunque Già altre rosari Alla messa Sono già Due ore e mezzo Quasi tre ore di preghiera Poi l'adorazione Dura un'ora Insomma Chiedeva più o meno Quattro ore di preghiera I parrocchiani si lamentavano Si lamentavano Diciamo Mentre possiamo passare la vita a pregare E mormoravano Come Il popolo di israeli Nel deserto Ma la Madonna Dite Guardate in giro Voi dite che Voi dite che Io chiedo troppe preghiere Ma guardate In giro come abbonde Il peccato Ha detto la Madonna Io ho bisogno Delle vostre preghiere E così Con questa organizzazione Della preghiera La Madonna Ha fatto avanti 40 anni Poi lei stessa Ha cresciuto un digiuno Mai che c'era mai stato Nella chiesa Un digiuno così Forse nella prima comunità Di Gerusalemme Il digiuno Paneacqua Per tutto l'anno Prima solo il venerdì Poi anche il mercoledì La comunità cristiana Di Gerusalemme Ha scelto questi due giorni Perché gli ebrei Di Gerusalemme Digiunavano Il martedì E il giovedì Poi nella storia Della chiesa Sì è vero Sì è vero Che i monaci I eremiti I cenobiti Soprattutto le varie categorie Di monaci Facevano anch'essi Il digiuno Ma in genere Lo facevano In quaresima In avvento Non tutto l'anno L'unica deroga Al digiuno Del mercoledì Venerdì E l'unica deroga Che la Madonna Ha concesso È il fatto che Il mercoledì Venerdì Cadesse Una solennità Una solennità Diciamo religiosa Allora in questo caso Era deciso Vesteggiare No Quindi la Madonna Ha organizzato Meticolosamente La chiesa La parrocchia E soprattutto L'ha istruita Con i messaggi Cioè in poche parole La Madonna Attraverso i suoi messaggi Prima del giovedì E poi Del 25 del mese 25 del mese Sono incominciati Il 1987 La Madonna Ha tracciato Un cammino Di santità Da seguire E lo ha fatto Con molta Con molta meticolosità Con molta concretezza Intervenendo Sulla vita Della parrocchia Ma anche Sulla vita Delle famiglie Per esempio Ha voluto Che tutte le famiglie Avesse la Bibbia Ha voluto Che tutte le famiglie Leggessero ogni giorno Una pagina della Bibbia E poi Nella preghiera Cercassero di vivere E questa Quello che avevano letto E Curava anche I piccoli Particolari Per esempio Lei ha detto Perché La messa di Natale La dite La dite La dite La dite Dicevano praticamente La messa di Natale Verso le sette e mezza Di sera Così Poi c'era la cena Poi comunque Mi ci vuole Ritenete presente Che La parrocchia È abbastanza lontana Da Biccovi Ci sono Due chilometri Che la gente Faceva piedi Al buio Attraverso la campagna Allora avevano Derogato La messa di mezzanotte Ma la madonna Ha detto No La messa Va detta Mezzanotte Poi Aveva chiesto Dopo la fine Dei rosari Delle litanie Dopo i due rosari E dopo le litanie La madonna Aveva chiesto Che si ficesse Prima della messa La preghiera Lo spirito santo Dopo qualche tempo Siamo dimenticati Di dirla E la madonna Ha detto Perché non dite più La preghiera Lo spirito santo Poi A volte C'erano i bambini Che facevano Chiasso La madonna Ha detto No Seguiti i bambini La madonna Vuole che i bambini Vadano in chiesa Ma vuole che siano Anche seguiti Ha anche Ridarguito Qualche volta E i giovani Che parlavano Si muovevano Insomma Ha detto La chiesa È la casa di Dio Ha messo lì Una parrocchia Che comunque È quella che colpisce Di più I penegrini Quello vanno a Meggiugorie Cioè Si rendono conto Che la madonna Ne ha fatto Un'osi Straordinaria Di preghiera Però vorrei dire Che è lo strumento Fondamentale Con cui La madonna Ha formato Nel tempo La comunità E con i suoi messaggi Sono stati Propri i suoi messaggi I suoi messaggi A questo riguardo Cari amici Io vi permetto Siccome Ho voluto Dedicare Proprio In vista Di prossimi tempi Che abbiamo Davanti a noi Ho voluto Appunto Preparare Due libri Particolari Uno È quello Che stiamo Facendo Adesso Fare Conoscere A tutti Il messaggio Di Meggiugorie E come La madonna Vuole Che andiamo Preparati Alle prove Che comunque Sono già in atto Nel mondo Che avranno Come obiettivo Quello Di Le prove Questo ha provveduto Dalla fede Dalla fedeltà Perché attraverso La fede Che la madonna Vincerà Poi ho voluto Anche Fare questo Servizio Che è un servizio Molto prezioso E cioè Nessuno Può immaginare Di leggere I messaggi Tutti i messaggi Della madonna Sono le raccolte Dei messaggi Ma Poi leggere Uno dopo l'altro Non Non è un metodo Che poi Rimane Perché poi L'affollamento Di messaggi Nella mente Poi il cuore Sdra arriva Di messaggi Poi alla fine Uno Non 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 ha Un punto focale Su cui Fissarsi Allora Io Ho voluto Proprio Come viatico Come Preparazione Al tempo Dei segreti Ho voluto Preparare In questo libro Le parole Di Maria Međugorje E che L'ho scritto Con questo Obiettivo Cioè Non basta Sapere La storia Di Međugorje Bisogna sapere Le parole Della madonna Međugorje Perché saranno Quelle Che ci terranno Forti Nel tempo Delle prove Perché noi Stiamo entrando In un tempo Delle prove In cui Saddam cerca Di sviarci In tutti i modi E il mondo Cerca di sviarci In tutti i modi Ma se noi Avremo le parole Della madonna Radicate Nella nostra mente E nel nostro cuore Se noi Queste parole Le abbiamo Seminate E ha messo Le radici Sono cresciute In noi Nessuno Riuscirà A sviarci Nessuno Riuscirà A scuoterci Nessuno Riuscirà A trascinarci Sulla via Dell'incredulità Perché lì Sarà la battaglia Cari amici Quando appunto La madonna Ci dirà I messaggi Tre giorni Prima E il fatto Sarà questo Che il mondo I riderà Però sempre meno Mentre andiamo avanti Mentre si vede Che le parole Della madonna Si realizzano Rideranno un po' Meno Andando avanti Ma sappiamo Come il male Sia Ostinato Si è ostinato Pensate Con tutti i miracoli Ha fatto Gesù Cristo L'hanno ammazzato L'hanno ammazzato L'hanno ammazzato Con tutti i miracoli Con la sapienza I demoni Che ha cacciato Non c'è niente da fare La potenza del male Senza la grazia Non riusciamo a fermarla Allora Proprio perché I messaggi Sono stati L'istrumento Attraverso il quale La madonna Ha Preparato Diciamolo La parrocchia E la sta preparando E sta preparando Tutti noi A questo grande evento E proprio per questo Cari amici Che dobbiamo Assimilarli continuamente In modo tale Che diventino Il nostro linguaggio Diventino Il nostro modo Di esprimersi E di parlare Diventino L'espressione Della nostra fede Perché poi Non dimenticate Che la fede Della chiesa È la fede Della madonna Non è che la chiesa Ma è una fede Diversa dalla madonna La fede Della chiesa È la fede Della madonna E la madonna Ci esprime Attraverso i messaggi La fede Della chiesa Con un linguaggio materno Molto esistenziale Molto concreto E molto Finalizzato Diciamo A una vita cristiana Santa A una vita cristiana Di fede Di speranza E di luce E di carità Allora I messaggi Cari amici Adesso Voglio solo dirvi È importante Cari amici Di che lo strumento Attraverso il quale La madonna Ha formato La parrocchia Sono i messaggi Questo è fondamentale Per quanto riguarda I messaggi Della madonna Vi ho già detto Io ho già anticipato Alcune Alcune cose Però adesso Vorrei darvi un Quadro un po' più completo Prima di tutto Permettetemi di dirlo Il primo motivo Di credibilità A mio povere È il fatto Che si sente Che la madonna È la madonna Cioè La madonna Parla da madonna Cioè Tu Leggendo questi messaggi La gente se ne accorge Che è la madonna Cioè Escono dal cuore Della madonna D'una cattura santa Una cattura Che ha la pienezza Della sapienza E della fede Che ha un cuore di madre Che ama i suoi figli Che è piena di luce Che è piena di amore Per suo figlio Tutti i messaggi Orientano a suo figlio Cioè Mio figlio Mio figlio Mio figlio Non vaga di chiamare Suo figlio In ogni messaggio La madonna Mai trattiene Lo sguardo Su di sé Ma sempre lo rivolge A Gesù Lo rivolge sempre A suo figlio E quindi Cari amici Sono messaggi Cristologici Sono la fede di Maria L'amore di Maria Lo zelo di Maria Per suo figlio E per la causa Del regno di Dio E per la causa Delle nostre anime Questa è la ricchezza Dei messaggi Come vi ho detto Quelli dei primi tre anni Sono particolari Perché sono Occasionali Vorrei dire Cioè Senza Scalare Credenze Particolari O giorni particolari La madonna Praticamente Li dava quasi Tutti i giorni E sono Di una bellezza Incantevole A leggerli Sono anche Il dialogo Fra la madonna E i vergenti Stessi Questi sono i messaggi Dal primo giorno Cioè Da 25 giugno Del 1981 Fino Al 1984 E nel 1984 E nel 1984 La madonna Ha deciso Di dare messaggi Regolari Alla parrocchia E già in questi messaggi Regolari Alla parrocchia Di ogni giovedì Le ha detto Appare chiarissimo L'intenzione Della madonna Di scelere La parrocchia Di guidare la parrocchia E di essere In qualche modo Il parroco Della parrocchia Insomma E la comunità Francescana Che si è avvicendata A Međugorje È stata Una comunità Di apostoli Di Maria Che hanno sempre Seguito i messaggi Della madonna Ovviamente Nell'ambito Sempre Della Diciamo Dei confini Che il vescovo Ha segnato Però Diciamo Cioè Non c'è mai stato Un momento In cui la parrocchia La parrocchia di Međugorje Non sia stata In comunione Con la chiesa Cioè La parrocchia di Međugorje È sempre stata In comunione Con la chiesa Cioè Io mi ricordo Sono stato invitato Fin dei primi tempi A pranzo A pranzo Dalla comunità parrocchiale Dei frati A pranzo Con i frati E mi ricordo Che Non ricordo più Se era il superiore O chi era Perché per lui Sapendo che Io ero Il direttore Di Rando Maria Mi ha detto Qui Caro padre Noi siamo tutti qui Con il permesso Del vescovo Quindi Siamo tutti Nell'ambito Del diritto canonico Insomma Mi ha detto In poche parole Quindi Questo è Un timbro ecclesiale Importantissimo Nella storia Di Međugorje Vi dicevo C'è stato Un momento Di crisi Anche Per quanto riguarda I messaggi Ed era Stato Il Proprio Cioè I messaggi Mi sembra Che si è cominciato Di prima C'è Nell'83 Se non vuoi Un piccolo Particolare Ma mi sembra Che proprio Nell'84 C'è stata Una crisi Particolare Perché Ha fatto un momento In un giovedì La Madonna Non ha fatto il messaggio A Maria Non ha fatto il messaggio A Maria Non ha fatto il messaggio Lei l'ha chiesto Non l'ha dato E Il giovedì dopo Maria ha detto La Madonna Perché non mi ha dato Il messaggio E La Madonna Ha risposto un po' Un po' Come si dice Severamente Dicendo che lei Non dà i messaggi Per la curiosità Della gente Lei dà i messaggi Perché vengono Messe in pratica No E E E Manifestava la sua Scontentezza Per come la parrocchia Si comportava Eravamo Credo in febbraio E Il protestato Era Un po' Il fattoto Lì dalla parrocchia Anche se non era parroco Ha capito Che era necessario Dare uno scossone E ha organizzato Una specie di esercizi Spirituali In quella quaresima Del 1984 Io racconto Così Magari Può essere che mi sfugge Qualche particolare Nelle date Ma La sostanza è quella Perché sono cose Che ho vissuto Poi fra l'altro Seguendoli da vicino E E la parrocchia Si è rinnovata In quella quaresima Per cui Arrivati A giovedì santo Era un giovedì In cui la Madonna Dava il messaggio La Madonna Ha detto Pensate cosa ha detto Ha detto Oggi Era il giorno In cui Io Vi avrei dato L'ultimo Mio messaggio Poi Non ne avrei Datti più E Dio Mi approva In questa mia decisione Ma poiché La parrocchia Si è rinnovata Pensate Come È importante Per la Madonna Il fervore della risposta Poiché La Madonna Si è rinnovata Qui Proprio grazie A Padre Slavco Dobbiamo dire Io darò messaggi Lo disse Nel 1984 Come mai Sono stati dati Fino alla fine Del mondo Cioè Dò messaggi Fino alla fine Del mondo Come mai Sono stati dati E questo Si è realizzato Cari amici Poi la Madonna Ha anche fatto capire Come i messaggi Sono importanti Ha detto Le mie parole Vi siano preziose Cioè Perché Parole Perché Vengono dal cielo Non sostituiscono La sacra scrittura Ma sono Il commento Della madre Della sacra scrittura Di colei Che è il signor Della sapienza Che è la sede Della sapienza Di colei Che è la madre Del verbo E Comunque Cari amici C'è anche Questo piccolo Particolare Da sottolineare Che in tutti Questi anni Con tutti questi messaggi Perché poi Poi la Madonna Nel 1987 Ha cominciato A apparire Mirjana Poi successivamente Ha cominciato A dare i messaggi Per i due Del mese Li ha avanti Per almeno Vent'anni I messaggi Brevi Una volta all'anno Il 25 giugno Errore Ma qui abbiamo Questo miracolo Dei messaggi Della regina Della pace Che hanno nessun errore Sono bellissimi Sono nutrimento Per milioni e milioni Di persone Sono Per la verità Sono La nuova Evangelizzazione Quindi Come vedete La La strategia Della Madonna È stata Ed è Una strategia Ecclesiale Allora Noi ci chiediamo Per quale motivo La Madonna Ha scelto una parrocchia Per quale motivo La Madonna Ha Diciamo così Finalizzato La sua presenza A una nuova evangelizzazione L'ha fatta Perché lei È madre Della chiesa Per dare Il suo contributo Al rinnovamento Spirituale Della chiesa Specialmente Al risveglio Della fede Perché era Incominciato Un periodo Di attacco Del demonio Proprio Alla fede Alla chiesa E Era Incominciato Il periodo Della secolarizzazione E che poi Divenne il periodo Della apostasia Silenziosa Quella chiamò San Giovanni Paolo II Che poi Era diventato La dittatura Del relativismo Come l'aveva chiamata Benevento XVI Il Papa Emerito E che poi Era diventato Il pensiero unico Mondano Intramondano Diciamo così La nuova religione Del pensiero unico Che è una religione Materialista Idolatra Dove l'uomo Il posto di Dio Che è appunto Il pensiero unico Come l'ha chiamato Sua santità Papa Francesco Ecco perché La Madonna Ha elaborato Questa strategia Ecclesiale Per sostenere La chiesa E in questo momento Di grande prova Per la sua fede E comunque Diciamo così La Madonna La Madonna È riuscita a reggere L'urto Spaventoso La bufera tremenda Che si è abbattuta Sulla chiesa Che avrebbe potuto Portare anche Al crollo stesso Della chiesa Ma come la Madonna Ci ha detto La chiesa È indistruttibile Perché in essa C'è l'Eucaristia C'è Cristo C'è la sua Passione La sua resurrezione La sua parola Di verità Cari amici Però Detto questo Noi qui ci fermiamo Perché poi Dovevo aprire Un altro capitolo Anch'esso molto importante Sulla Diciamo Strategia Della Madonna Di rinnovare La chiesa Adottando la parrocchia Per vedere Come questo Programma Che incominciato Da questa piccola Parrocchia di Magigorie Poi si è esteso In tutto il mondo E non mi ricordano Senza il regale E far fermugliare La terra Così ogni mia parola Non ritornerà a me Senza operare Quanto desidero Senza aver compiuto Ciò per cui L'avevo mandata Ogni mia parola Ogni mia parola Ogni mia parola Così ogni mia parola Non ritornerà a me Senza operare Quanto desidero Senza aver compiuto Ciò per cui L'avevo mandata Ogni mia parola Ogni mia parola Ogni mia parola Cari amici Allora Proseguiamo La nostra riflessione Su questa novità Diciamo Delle apparizioni mariane Che è appunto La scelta Che la Madonna Ha fatto Non soltanto Dei vergenti Ma anche Della parrocchia Direi che è un caso Molto particolare E comunque Ha una Poi col passare Del tempo Ovviamente Dopo 40 anni Di apparizioni Possiamo ben capire Qual è stato Il piano della Madonna Cioè Il piano della Madonna È stato quello Di Attraverso la parrocchia Di Međugorje Di irradiare La sua preghiera La preghiera La fede La pena La conversione E Un po' In tutta la chiesa È attraverso la chiesa In tutto il mondo Quindi C'è una strategia Molto concreta Che Era già prevista Credo Proprio Nel disegno Di Dio In quanto La parrocchia È risultata Più grande Di quanto Non Ce ne fosse bisogno Quando Molti anni prima Era stata costruita Questa chiesa Dei due campanili Che può Raccogliere Mille persone Ma allora Gli abitanti Che sarebbe Sarebbe risornato Un po' Ovunque Nel mondo E quindi La venuta Di peregrini Tutto questo A mio parere È stato anche Possibile In quanto La parrocchia Che la Madonna Ha scelto Era Diciamo Era Personalmente Condotta Dai Francescani E Noi sappiamo Che l'ordine Francescano Comunque Fu il primo A organizzare Pellegrinaggi Un po' Da tutte le parti Del mondo Proprio Da tante parrocchie Francescane Comunità Francescane Che sono Disseminate Ovunque E questo Ha creato Comunque Un movimento Spirituale Che va al Binardilardi Francescani Che ha coinvolto Tutta la chiesa E questo Appunto È una caratteristica Dei anni Successivi Io parlo Dopo La grande Dopo il grande Afflusso di persone Che sono venute Prima dalla Bosnia Poi dalla Croazia Poi Un po' Da tutta l'Eso Eugoslavia E Fin dall'inizio Sono venuti Anche dei paesi Diciamo Da centuro Perché erano comunisti Già Al primi tempi Si vedevano Gli ungheresi Si vedevano I polacchi Si vedevano Gli slovacchi E Poi Questo fu Un filone Che In un certo senso Esplose Dopo l'aggiunto Del comunismo Però Fin dall'inizio Era in cominciato Il filone occidentale Dei pellegrinaggi E Dall'Italia In modo particolare Ma non solo Dall'Italia Ma anche Dalla Francia Anche Da paesi Di lingua germanica E Io ho dovuto Constatare Nel tempo Una presenza Molto numerosa Di lingue inglese A Međugorje Fin dagli inizi Che riguardavano Gli irlandesi Prima di tutto Ma poi Ma poi Anche Gli americani Quindi C'è sempre stata Una presenza Di lingua Di lingua Di inglese Molto numerosa A Međugorje E Questo Ho fatto sì Che La parrocchia Di Međugorje Acquistasse Diciamo così Un significato Universale Da una parte Comportava Per la comunità Francescana Un'onere notevole Perché comunque Bisognava disciplinare Especialmente Da aprile E Fino A ottobre Concluso Un afflusso Di peregrini Che andavano Anche Oltre i due milioni All'anno E C'erano I momenti di pausa Erano pochi Diciamo Perché Sì C'erano i mesi di novembre Ma già Alla festa Di santi e dei morti Arrivava gente Poi All'immacolata Arrivava gente Poi 15 giorni Di ferie Natalizie Dalla vigilia di Natale Fino all'epifania Erano soprattutto Gli italiani Che arrivavano Insomma Detto in parole povere Quasi tutto l'anno È stato Per tanti anni Sotto La pressione Di umbrosi pellegrini E Questo ha creato Cari amici Una specie di parrocchia Spirituale Non mi fa di chiamarla Parrocchia allarcata Con la brutta espressione E cioè La parrocchia formata Ma tutti coloro Che sono stati Pellegrinaggi Međugorje Che ne hanno avuto Di grandi benefici E che poi Sono ritornati Perché una delle caratteristiche Di Međugorje È quello che È il ritorno A Međugorje Io conosco Molte persone Che hanno fatto Più di cento Pellegrinaggi Anch'io sono Fra quelli Che hanno fatto Più di cento Pellegrinaggi A Međugorje Ma ci sono Delle persone Che sono consuete Cioè Non riescono a vivere Senza andare A Međugorje E questo È dovuto Al fatto Che sia Un clima Di preghiera E anche Di accoglienza Che è tipica Comunque Dei paesi slavi Sono molto Accoglienti Le famiglie Sono molto Come dice Come dire Ti fanno trovare Ti vanno trovare A tuo agio E sono molto Ospitali E questo riguarda Anche Tutto l'insieme Insomma Anche poi Quello che è cresciuto Le case famiglie Diciamo Le case famiglia Cioè Quelle case Dove la famiglia Riceveva i pellegrini Allargando Diciamo così Le mura Allargando Creando Gruppi Di stanze Che prima Erano 20 25 Poi sono 20 50 Come io ho detto Poi sono venuti Gli alberghi Comunque C'è sempre stata Una Come a A Međugorje C'è sempre stato Un clima Che non ho trovato Nel di santuario Mariani Io non ho girati tanti Vi ho raccontati Nel mio libro Pellegrino Quattro ruote Ma lì C'è C'è Si creano le amicizie Si creano Come si dice Le relazioni umane Belle Si va anche per Per la madonna Ma anche per trovare Gli amici Comunque c'è anche Una condivisione Degli ideali Spirituali e morali Insomma Come dire Se uno va a međugorje Poi ci ritorno Prima preoccupate Di formare Di formare queste guide Quindi Di incontri annuali Per le guide Come devono essere guidati I pellegrinaggi Cosa bisogna dire Cosa bisogna impedire Insomma Si è creata una disciplina E anche Diciamo Una Come dire Una Una pastorale Dei pellegrinaggi Che ogni anno Vedeva Incontri Vedeva Direttive E vedeva anche Diciamo Motivazioni Di carattere spirituale E poi così Durante tutto l'anno La parrocchia ha organizzato Tante iniziative pastorali Per le coppie Per i fidanzati Insomma Quelle attività A sostegno Della pastorale Della Madonna Soprattutto i temi Che alla Madonna Stavano più a cuore Specialmente quelli Che riguardano la famiglia E così In questo modo Međugorje È diventato Un centro pastorale Di valore mondiale A livello pastorale Senza poi contare Attività caritative Che sono fiorite Međugorje Tutti conoscono La comunità Cenacolo Sia maschile Sia femminile Conoscono il villaggio Fondato da Padreslavco Per gli orfani In seguito Alla guerra Di Bosnia Insomma È diventato Un centro Internazionale Međugorje Pur senza Pur senza Diciamo Ostentazione Di edifici Di titoli È diventato Un centro Internazionale Attraverso il quale Diciamo I messaggi Della Gospa Sono stati Sono vissuti Sono stati insegnati Vissuti E sono diventati Anche operativi Sul piano Della carità Vi devo dire Cari amici Che a Međugorje C'è una piccola Particolarità Pur essendo È stato Fin dall'inizio Uno dei Delle mete Più Uno delle mete Più gettonate A livello Di penegrinaggi E Forse non si è mai Arrivati A All'Urdi Penegrini Di Lourdes Dove Ai tempi Ai tempi Diciamo Floridi E si è arrivato Anche a Lourdes A milioni Milioni Penegrini Però Col tempo Međugorje Comunque Ha sotto Una caratteristica Particolare Cioè voglio dire Non c'è dubbio Che in Italia Che in Europa Lourdes Per esempio Ha avuto sempre Molto più Pellegrini Međugorje Però Uno che va A Lourdes Sono tre volte A Lourdes Alla fine Le componenti Dei penegrinaggi Sono quelle che sono Cioè Praticamente C'è la componente Italiana La componente Francese La componente Polacca Soprattutto Poi invece Sono piccole cose Piccoli gruppetti Anche di altre parti Per carità Se vai a Fatima Menchè meno Insomma In poche parole C'è il 13 del mese Che vedi arrivare Anche mezzo milione Di portoglesi Però non c'è Un grande flusso Di pellegrini Paragonabile A quello di Međugorje Dico questo Perché La caratteristica Di Međugorje È la sua internazionalità Cioè Alla fine Tu vedi arrivare Pellegrini Da ogni parte Del mondo Cioè Li vedi arrivare Dei paesi Più impensati Forse Dipende anche Dei francescani Che sono un po' Ovunque nel mondo Però insomma Tu vedi Pellegrini Da tutte le Americhe Da tutta l'Europa Dall'Africa Dai paesi Dell'Asia Come viajano Come la Corea del Sud Medio Oriente Insomma È una È una È una Prospettiva Internazionale Che Pur essendo stata Più di una volta Bloccata Dalla guerra Prima di tutto Per 4 o 5 anni Poi anche E dal Covid Però alla fine È sempre punto A ripartire Cos'è dovuto Questo fatto? Mi pare è dovuto È dovuto Un particolare Che Su cui molti Non riflettono Non so Cioè Diceva che a Međugorje La Madonna è viva Non so Non ci può cosa fare Tu in qualsiasi Santuario vai Per carità Dove c'è stata La Madonna C'è ancora Spiritualmente Ma è un conto Guarda amici Andare a Međugorje Guarda la Madonna Appare Ci sono i veggenti Che fanno la testimonianza Dove dà i messaggi Dove Come dice Visca Qui la Madonna è viva È una bella differenza Con altri santuari mariani Non c'è paragone Insomma A riguardo Questo lo dico Perché Sennò Si criticano i pellegrini Ma perché Perché i pellegrini Non vengono qua Perché i pellegrini Non vengono là Perché i pellegrini Vanno a Međugorje E' sorta Anche una specie Di fastidio Il fatto che La gente andasse Ma giù Guarda amici La gente Va dove c'è La Madonna Insomma Cioè Dove appare la Madonna La gente va Ci può cosa fare E vince Molte volte Ostacoli incredibili Per andarci E All'inizio I pellegrinaggi Erano privati Cioè Erano organizzati Privatamente E questa era La condizione Che aveva posto La Chiesa Era una Delle condizioni Iniziali Cioè La Chiesa Vedendo i flussi Dei pellegrini Non li bloccò All'inizio E la Chiesa Fin dall'inizio Con la conferenza Episcopale di Jugoslava Ma già anche Col Vescovo Zanis Aveva optato Per L'accompagnamento Del fenomeno Per l'accompagnamento Dei pellegrini E quindi Era arrivata Poi A stabilire A livello Proprio Di conferenza Episcopale di Jugoslava Approvata Da Santa Sede Di permettere I pellegrinaggi Privati Poi Recentemente Con Papa Francesco Che ha inviato Il suo rappresentante Mezzugorio Mons. Hoser E Diciamo Che I pellegrinaggi Sono diventati Molto più ampli Cioè Anche Le organizzazioni Cattoliche I gruppi Di peregrinaggi Le associazioni Cattoliche Che organizzano Pellegrinaggi Possono organizzare Pellegrinaggi A Mezzugorrie Riconosciuto Come Centro Mariano Di spiritualità Quindi Diciamo La Chiesa Come vedete Ha Come dire Rimandato I tempi Futuri Un eventuale Riconoscimento Ufficiale Dell'origine Sopranatuale Delle apparizioni Ma Nel medesimo Tempo Ha permesso I pellegrinaggi Questa è stata Anche Diciamo A mio parere La illuminata Opzione Che ha fatto Papa Francesco Il quale Come già Vi ho spiegato Ha voluto Esaminare Personalmente I risultati Della commissione Ruini Papa Francesco L'abbiamo sentito Tutti pubblicamente E ha elogiato La commissione Ruini Però Quello che io Vorrei dire Che siccome Conosco Conosco Come la chiesa Si muove Le commissioni Non Cioè Voglio dire Le commissioni Non decidono Le commissioni Informano Cioè La commissione Ruini Era stata istituita Da Benevento XVI Per informare Per fare una Una verifica Diciamo così Ad alto livello Del fenomeno Meggiugorie Poi La commissione Ruini È arrivata Alle sue Diciamo così Valutazioni Però Non Non hanno Un valore Diciamo Cogente Obbligatorio Cioè Non siamo obbligati Noi Noi non siamo obbligati A pensare Come la pensa La commissione Ruini Su Meggiugorie C'è chi È molto più severo Nel criticare Meggiugorie Invece che Ha un adecemento Molto più ampio E più libero Le commissioni La commissione Aveva come scopo Di presentare A Santo Padre Una panoramica E poi Il Papa Se Era lui Che Doveva decidere Cosa fare Perché È il Papa Che ha l'autorità Di decidere Una commissione Quindi il Papa Cosa ha fatto Il Papa Pubblicamente Ha eroggiato La commissione Ruini Ha sottolineato Il fatto Che la commissione Ruini Ha Parlato Di Conversioni Serie E numerose Il Papa Ha sottolineato Questo aspetto Che Nella sua Prospettiva Pastorale È molto importante Poi la commissione Ruini Ha anche Dato Una Diciamo così Un parere Un parere Un suggerimento Che il Papa Ha colto E cioè Di Prendere sotto Diciamo Però controllo Non mi piace Sotto la guida Dalla Santa Sede Il fatto Il fenomeno Pastorale Di Međugorje O l'evento Pastorale Di Međugorje E questo Il Santo Padre Ha fatto Nel Nominare Musi La Choser Su rappresentare E Questo è Diciamo Un passo Decisivo In quanto La Santa Sede Si occupa Nella pastorale Di Međugorje Nella pastorale Con i pennegrini Si occupa Delle conversioni Si occupa Della liturgia Vigila Perché gli insenamenti Sono conformi All'insenamento Della Chiesa Della Chiesa E Certamente Papa Avrà dato Anche altre disposizioni Non noi sappiamo Che questa è La Sua decisione Più importante Per cui La parochia di Međugorje Pur essendo ancora Partecipe Diciamo così Della diocese Di Mostar In pratica La pastorale La parochia di Međugorje Fa capo Al rappresentante Della Santa Sede E il quadro Come già vi ho accennato Ma è importante Anche ripeterlo Questo È Molto semplice E cioè Che la Chiesa Lascia liberi Di credere O di non credere Dovevano semplicemente Stare alle sue disposizioni Al momento La Magistero La Santa Sede E poi Magistero proprio Del Santo Padre Che Un domande Deciderà Poi Non sappiamo Quali domande Sarà Perché potrebbe Anche essere Alla fine Tutti questi Grandi Avvenimenti Che durano Ancora nel tempo Poi la Chiesa Deciderà Se Cosa fare Perché poi Chiaro Ci saranno eventi Straordinari Come se Siano sulla montagna Chiaro Che a quel punto Lì Diciamo Un riconoscimento Dell'origine Sopranaturale Cioè Il riconoscimento Da parte Della Chiesa Che lì C'è la Madonna Potrebbe anche venire Per il momento Però non c'è Però la Chiesa Lascia liberi E soprattutto Una semplice Di andare a Maggiugorio Di Mettere in pratica I messaggi La Chiesa Non ha trovato Un solo messaggio Che non fosse Diciamo Che non fosse Tale Da creare Da creare problemi Insomma C'è anche un piccolo Particolare Ancora Da mettere in luce Per quanto riguarda I pellegrini A Maggiugorio E cioè Il fatto Che la Madonna Stessa ha detto Che lei stessa Chiama i pellegrini Ed è per quello Che dice Alla fine del messaggio Grazie Perché avete accolto La mia chiamata Evidentemente Questo è qualcosa Che si sperimenta Sperimentiamo Cioè La gente Sente che Sente che è stata Chiamata dalla Madonna A mandare a Maggiugorio E sente La chiamata La conversione E difatti Una delle caratteristiche Di questa parrocchia Vi ho detto E la messa O l'ho già detto La preghiera Nella sua centralità Eucaristica Cioè La messa quotidiana Percevuta Da rosario E seguita da rosario Adorazione Ma Una delle caratteristiche Di Međugorje È la confessione Cioè Međugorje È stato chiamato Da personalità Di grande Fama Il confessionale Del mondo Insomma Quindi Lì si vedono File e file Di persone Che si confessano E sono anche Confessioni Della vita Cioè Persone che Erano una vita Che non si confessavano E Questo È anche il motivo Per cui La chiesa Ha sempre Favorito Fin dall'inizio Un accompagnamento Sacerdotale Dei gruppi Di pellegrini Perché Quell'accompagnamento Sacerdotale Dei gruppi Di pellegrini È chiaro Che poi Anche Gli stessi sacerdoti Di diverse lingue Sono a disposizione Delle confessioni Ma a volte Le confessioni Durano anche un'ora Anche di più Cioè E Questo È qualcosa Che ha Creato La Madonna Fin dall'inizio La Madonna In quel mese Di agosto 1981 Quando fece avvicinare Durante l'apparizione Alcuni Abitanti del villaggio Invitandole A toccare La sua veste Alla fine Risultò Che la veste La Madonna Era sporca Allora Allora Uno dei abitanti Del villaggio Che era presente È Maria Che racconta Questo evento E disse Andiamo tutti A confessarci E Da allora Incominciarono Le confessioni Sono ancora Bellissime fotografie Di quei tempi Quando appunto Intorno alla chiesa C'erano Dei Prati Secchi E Eravamo D'agosto I francescani Con le sede Di qua Le sede Di là In mezzo a questi prati E figli di parrocchiali Che si confessavano Da allora Meggiugorie È diventato Il confessionale Del mondo Quindi Cari amici Questi sono Diciamo I segni Della presenza Della Madonna Meggiugorie Cioè La priera Intensa Quotidiana La Santa Messa Vissuta Le confessioni Esistenzialmente Commoventi Le Conversioni Vere E proprie E poi I gruppi Di preghiera Il flusso Enorme Di sacerdoti Che arrivano A Meggiugorie E poi Anche vuole dire Le guarigioni Perché a Meggiugorie Ci sono centinaia Centinaia di guarigioni Certo Lì non c'è Quell'organizzazione Sovisticata Che c'è All'URD Dove c'è Anche Fin dall'inizio C'è stato Diciamo Un'organizzazione Per Accogliere Le testimonianze Dei malati Per verificare Le guarigioni Miracoli Eccetera No Le Maggiugorie Però sono state Testimoniate Alla parrocchia Documentate Come si è potuto Molte centinaia Di guarigioni Io stesso Ho visto Qualche guarigione Diciamo Eccratante Le più numerose Sono quelle Di persone Che sono in carrozzella E che poi Magari si fanno portare Sulla montagna Delle prime apparizioni Da persone Che Diciamo Portano la carrozzella Che poi Animprovviso Incominciano a camminare E sono portati su In carrozzella E scendono giù a piedi Fra l'altro C'è stato anche Qualche malato di Sla Sappiamo Questa malattia Dello Sla Come sia Una malattia Difficilissima Da guarire Insomma Sia difficilissimo Che una Un Malato di Sla Guarisca Questo per dire Come Questa parrocchia È diventata significativa È diventata Come un modello Di cristianesimo Un cento propulsore Che ha avuto Che ha La madonna Che appare Che vigila E che allarga Il suo manto A tutte queste persone Che sono nel mondo Poi non dimentichiamo Che a mezzoguari Arrivavano Sono Prima del covid Venivano Computati Sui 35.000 Sacerdoti All'anno Che concelebrano È bensì vero Che alcuno Concelebra anche Due, tre, quattro volte Però alla fine Insomma Puoi ben contare A meno 10.000 Sacerdoti All'anno Che vanno A mezzogorie Nel tempo Sono diverse decine Di migliaia Ovviamente E questo Questo cosa Comporta Comporta Che questi sacerdoti I loro stessi Si convertono Riscoporono La bellezza Del sacerdotio Lo zelo Di essere sacerdoti E tornano Nei loro parrocchie E danno Un'impostazione Diciamo Spirituale Evidenziando La centralità Della Eucaristia Della confessione Della sacra scrittura E poi anche Le opere di carità Che da questo amore Per Cristo Prende Impulso E Fanno Rifiorire Le parrocchie Sono Innumerevoli Le parrocchie Sono rifiorite Da sacerdoti Che andanno a Međugorje Sono stati In qualche modo Come dire Chiamati Illuminati Fortificati Incoraggiati Dalla Madonna E Questo Carissimi È Sotto gli occhi Di tutti Questa parrocchia Diciamo Di contadini Sconosciuta È diventata Un centro irradiante Del mondo Un polmone Un polmone Di ossigeno Di cui La Chiesa Ha tanto bisogno In questi tempi Vorrei Sottolineare Abbiamo ancora Qualche minuto Un Aspetto Dei messaggi Della Madonna Che a mio parere È di grande importanza Cioè La Madonna Praticamente A partire Dall'anno 2000 Poco più Per tanti anni Per una dozzina D'anni Nei messaggi Dati a Miriana Ha Sollecitato A pregare Per i pastori Della Chiesa Ora Qui Su questo punto Ci sono Molte riflessioni Da fare Cioè Però Riflessioni Che devono essere Di carattere Teologico Serio Insomma Cioè La Madonna E La Madonna La Chiesa Che conosce La Madonna È cosa Di Gesù Cristo Il quale È passato Una notte Per chiederà Al Padre I nomi Dei 12 apostoli E quindi La Madonna Sa benissimo Che la Chiesa È stata fondata Sugli apostoli Su collegio apostolico Il collegio apostolico Come sapete Riguarda Tutti i Vescovi Con la capo Il Papa E i sacerdoti Che sono I stretti collaboratori Di Vescovi Quindi c'è tutto L'ordine sacerdotale Diciamo così Al quale Cristo Ha dato La responsabilità Della Chiesa Ha dato A tutti i Vescovi Con la capo Il Papa E ha dato Anche al Papa Personalmente Questa responsabilità Pastorale Che riguarda Tutta la Chiesa Allora La Madonna Ha mai sopportato Meggiugorie Le critiche Nei confronti Dei Dei sacerdoti Del clero Che a livello parrocchiale Come sappiamo Abbondano E mi ricordo Che fin dall'inizio Miriana Sopramaria Tutti I veggenti Dicevano Che bisogna Accorre i sacerdoti Dalle proprie case Come si accoglie Che per i sacerdoti Bisogna pregare E non criticarli Effettivamente Poi Anche noi italiani Che magari Quando possiamo Criticare i nostri Parli Ce lo facciamo Volentieri No Siamo Siamo Fussi Rimasti Stupiti Con che Rispetto In Meggiugorie Vedono accordi I sacerdoti Non solo i frati Locali Ma anche i sacerdoti In quanto tagli Alle famiglie C'è un gran rispetto Del sacerdotio Ma la Madonna Già è nel loro DNA Questo Come cristiani No Ma la Madonna Ha fortificato Questo atteggiamento Di grande rispetto Amore per i sacerdoti E poi Per una decina D'anni La Madonna Ha chiesto Preghiere Per i pastori Ha detto Pregate per i vostri pastori Ha detto Pregate Amate i vostri pastori Ha detto Anche i pastori Con tutta la delicatezza Che soltanto la madre Che è molto rispettosa Della autorità ecclesiastica Cioè la Madonna È molto rispettosa Della autorità ecclesiastica Sia quando parla del Papa Sia quando parla dei pastori E La Madonna Appunto Ci ha detto Che dobbiamo Amarli E pregare per loro Qualcuno dice Eh ma Perché non possiamo Criticarli Per Correzione fraterna Per carità Togliamoci Togliamoci La trave Dal nostro occhio Prima di togliere La pagliuzza E l'occhio degli altri Insomma Sarba non ha detto Che dobbiamo amarli E pregare per loro Dobbiamo amarli E pregare per loro Però ha anche detto A loro Che Ha detto anche a loro Che loro devono essere Le mani di Gesù Il cuore di Gesù La bocca di Gesù Devo dire le parole di Gesù La verità di Gesù Insomma Devono essere il prolungamento di Gesù E Odio che è così Cari amici Ci mancherebbe altro Quindi questo È Una preoccupazione Che la Madonna ha avuto Per Facendo pregare Per almeno dieci anni di seguito Per i pastori della chiesa Per quale motivo? Perché Come ha spiegato bene Emiliana I pastori della chiesa Cioè i pastori della chiesa Papa Vesco I sacerdoti Sono come quel ponte Che Da oggi Da questi anni che viviamo Ci permette di superare Il tempo dei segreti Diciamo senza Sbandare E questo ponte Deve essere molto fortificato Con la preghiera Quindi Questo è il motivo Come ha detto la Madonna Poi in termini chiari Cioè io con i vostri pastori Vincerò Io con i miei pastori Vincerò L'avete in tutti e due i modi Perché capissimo bene Cioè non esiste una chiesa Così Di gruppi Di gruppi Di pecore Senza i pastori Che siano i successori Degli apostoli Non esiste una cosa di questo genere La chiesa che conosce la Madonna È la chiesa in cui Appunto I pastori Diciamo Sono quelli che Presiedono Al grece Per istruirlo Per guidarlo Per proteggerlo E per condurlo Questo cari amici Va detto Perché Nel tempo dei segreti Cari amici Avremo bisogno Tutti quanti Di essere uniti Nella chiesa Nell'amore per Cristo Nella luce della Madonna Che ci guida Perché soltanto così Possiamo formare Un esercito compatto Che non sbanda E che non si lascia Diciamo Deviare Voi sapete che Quando il lupo Attacca un grigio dei pecore Se le pecore Si sbandono tutti insieme O va di qua o di là Non riesce a prendere Ma se uno rimane da sola Il lupo corre subito A mangiarsela Ecco Questo È un insegnamento Che dovevo fare Nostro cari amici Molto importante E noi Che siamo Gli apostoli Dall'amore di Maria Dobbiamo capire L'importanza Diciamo così Di amare la Chiesa Di servire la Chiesa Di difendere la Chiesa Di Come dire Illuminare la Chiesa Con la nostra santità Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Ave Ave